Venerdì 29 giugno il presidente della provincia BAT, Nicola Giorgino, avrebbe apposto la firma in extremis sul protocollo d'intesa con la regione Puglia, assicurando ai formatori in servizio presso i centri per l'impiego del BAT le due mensilità di maggio e giugno. Il problema però non è stato risolto in quanto rimangono disattesi i pagamenti degli stipendi dei mesi precedenti. La responsabilità è in capo alla provincia, ha fatto sapere il segretario generale della CGL BAT Giuseppe De Leonardis, che ha promesso di scendere in prima linea con gli enti di formazione promuovendo azioni legali. Il nodo da sbrogliare riguarda la questione che i fondi spettanti ai formatori sarebbero stati regolarmente elargiti dalla regione Puglia, ma gli intoppi sarebbero sorti una volta che i finanziamenti sarebbero giunti nella provincia BAT. A bloccare i pagamenti questioni burocratiche e strutturali, la provincia BAT si è giustificata con la motivazione riconducibile alla mancanza di personale preposto a seguire le pratiche dei lavoratori. Non c'è il dirigente in provincia che possa firmare le determine. Per questo ai formatori non vengono elargiti gli stipendi. È un paradosso, ha commentato il segretario generale della CGL BAT Giuseppe De Leonardis. Intanto i dipendenti senza stipendi da cinque mesi sono scesi più volte in piazza per protestare e denunciare il loro malcontento e chiedendo a gran voce un incontro con il presidente Nicola Giorgino. Un confronto ancora oggi tra polemiche e malumori rimasto disatteso.